Con un Bari magari a regime sarebbe stata forse diversa? Sì, io penso che le assenze che ha il Bari in questo momento siano fondamentali per il Bari. Il manco dei giocatori importanti, i giocatori che l'anno scorso hanno fatto differenza anche due anni fa. Penso che quando rientrano tutti il Bari si solleverà da questa posizione di classifica perché è una squadra secondo me con fronte a altre molto superiore. Non hai esultato durante i due gol, la cosa ti fa molto onore, complimenti. No, grazie. Non potevo esultare perché comunque ho stato sei mesi a Bari benissimo, ho vinto un campionato in Serie B quindi non era giusto. In più la gente mi ha sempre trattato benissimo, quando sono trattato anche l'anno scorso mi hanno applaudito quindi non mi sembrava il caso esultare. Cosa diciamo ai tifosi del Bari? Io gli faccio un grosso imbrocca al look, spero che si risolvino presso la squadra perché per rivedere il Bari in Serie B secondo me non è una cosa giusta perché per la tradizione che ha, per quello che ha fatto negli ultimi anni penso che si meriti di stare in Serie A. Grazie Guverto in bocca al lupo. Grazie a voi.